il codice sconto jacksard ora vale il 15% in più vai su fandomia.com e approfitta subito di questa offerta link in descrizione nei commenti ed eccoci tornati con le ultime news e rumor per quanto riguarda quest'oggi Venom 3 vediamo un po' ragazzi dove vorranno spingersi con questo film se tenteranno di fare peggio dei primi due, se tenteranno di fare peggio di Morbius sono proprio curioso di vedere Sony questa volta come riuscirà a toccare il fondo oppure incredibilmente si riuscirà a stupirci ma la vedo veramente dura per quanto riguarda ragazzi Andrew Garfield invece per l'ennesima volta perché non è la prima volta si è fatto appunto il nome di Garfield legato al Sony Spider-Man Universe e quindi al Venom e Tom Hardy infatti da Reddit arriva un rumor che vorrebbe Andrew Garfield all'interno di Venom 3 e che quindi darebbe la risposta a questa domanda che ci stiamo facendo da tempo ma chi è lo Spider-Man del Sony Spider-Man Universe potrebbe essere Andrew Garfield non è la prima volta che si fa il nome di Garfield per quanto riguarda questo universo anche se onestamente ragazzi io a Andrew Garfield gli auguro di non far parte di questo casino poi chiaramente vedremo sinceramente ragazzi non è un rumor su cui per ora fare tantissimo affidamento anche perché arriva da Reddit ma non ho ben capito quale sia la fonte quindi potrebbe essere anche un po' una cazzata sapete che quando insomma vado un po' più sul sicuro faccio anche il nome di leaker che comunque in passato ci hanno dimostrato insomma che sono abbastanza affidabili questa volta non lo so è così è un po' campato per aria però c'è anche da dire ragazzi che non è la prima volta non è la prima volta che si fa il nome di Garfield legato a questo universo ma non soltanto questo ragazzi non soltanto questo abbiamo anche una primissima scena dal set per quanto riguarda Venom 3 appunto non è niente di eclatante non si capisce praticamente nulla da questo piccolo filmato di 3 secondi praticamente dove possiamo notare però che Tom Hardy indossa gli stessi abiti che aveva nel finale di Spider-Man No Way Home nella scena post-credits praticamente e pare che stia uscendo boh da una sorta di bar completamente sbronzo cioè ragazzi mamma mia già iniziamo male già iniziamo male già vedo le gag le scorregge alla cinepanettone di sto film io non so veramente veramente questo film che cavolo combinerà perché secondo me veramente faranno la trilogia più brutta di sempre con un capitolo peggio dell'altro veramente stanno facendo il capolavoro della merda speriamo speriamo di sbagliarci ragazzi speriamo assolutamente però insomma già da questi 3 secondi non promette bene incredibile ragazzi 3 secondi già la vedo male comunque le riprese per ora le stanno girando in Spagna nel secondo Venom ricordo che nel finale Eddie era andato tipo in vacanza magari è tornato nello stesso punto non so se è la stessa location fatto sta insomma che l'inizio sembra essere un po' una stronzata c'è poco da fa' ma questo non è ancora niente ragazzi questo non è ancora niente vediamo nei prossimi giorni se ci saranno altre scene insomma che verranno riprese insomma dal set per capire un po' questo film che intenzioni ha ma ripeto ragazzi la situazione è drammatica è molto drammatica perché questo film sarà diretto da una delle sceneggiatrici insomma che hanno scritto i vari film di Venom finora quindi non solo sarà scritto da chi ha fatto la merda finora ma sarà pure diretto sarà ragazzi veramente questo film boh sarà il male sceso in terra non ci sono non ci sono veramente boh non vedo non vedo la luce non vedo la luce in fondo a questo tunnel in fondo a questa trilogia che veramente ha fatto schifo sempre di più minuto per minuto quindi vediamo e voi direte Jax ma allora che cavolo ne parli a fare lascia perdere però intanto è l'universo legato a Spider-Man voglio voglio vedere ragazzi voglio vedere dove andranno a parare quindi vediamo sono curioso di che cacata si inventeranno questa volta e vediamo ragazzi vediamo però insomma chiaramente non sono molto positivo è veramente difficile esserlo è veramente difficile ma nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi insomma primi secondi dal set di che potrebbe trattarsi quale potrebbe essere l'inizio del film insomma come potrebbe andare iscrivetevi come sempre al canale ragazzi e niente ci vediamo prossimamente con un'altra news e vediamo un po' se salterà fuori qualcosa di positivo dal set di Venom 3 vediamo nel frattempo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao a tutti